Un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito dopo che la sua auto senza controllo si è rovesciata su un fianco. L'incidente è avvenuto in via Ugane a Tre Ponti di Teolo in provincia di Padova. Il giovane ferito è rimasto bloccato all'interno della Smart ed è stato necessario attendere l'arrivo dei vigili del fuoco che lo hanno estratto. Il giovane è stato stabilizzato dal personale sanitario del suo e mi è trasferito immediatamente in ospedale. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi e regolato il traffico.